Siamo qui con il presidente Fita Abruzzo, Antonio Potere. Quindi come si svolgerà questa rassegna? Allora, la rassegna si svolgerà con otto compagnie che partecipano al concorso e aprirà il giorno 27 ottobre la compagnia Teatro Ansambre che presenterà la commedia Nagatino Locchetti. Poi ci sarà la compagnia Le Muse che presenterà il Corre del Tatone. Domenica 24 novembre alle ore 17.30 la compagnia Lo Passatempo di Pena presenterà Niciune Sand e Niciune Diavolo. Domenica 15 dicembre il Carrozzone che la commedia con la commedia né bianca né nera. Domenica 19 gennaio la compagnia Triana presenterà Chi lascia la strada vecchia, la nuova, sa quello che lascia ma non sa quello che trova. Domenica il 9 febbraio la compagnia Il Gruppo dell'Aquila presenterà Pretatti e Camponeschi. Domenica 15 marzo ci sarà l'ultima compagnia in concorso che sono i giovani amici del teatro di Pescara che presentano la commedia Basta chi sta buona la mamma. E la rassegna si concluderà domenica 29 marzo con la cerimonia di premiazione. E quali sono i premi messi in palio? Ci saranno due giurie. Una della giuria degli abbonati e una giuria tecnica. La giuria degli abbonati darà il premio come migliore compagnia. La giuria tecnica è la giuria tecnica che darà il premio come migliore compagnia, migliore attore, migliore attrice, migliore attore caratteristica, migliore attrice caratteristica, migliore regia. E poi ci saranno altri premi, ci saranno altri 4-5 premi, non sto qui a dire tutti i premi. E quest'anno si prospetta per questa edizione un record di abbonati? Sì, oggi siamo oltre 60 abbonati e veramente saranno una rassegna che il pubblico ci segue. Si saranno sempre, penso, il pienone come gli altri anni. E quest'anno forse arriveremo gli abbonati e facciamo un record. E voglio poi ringraziare per tutto l'aiuto che ci dà, la disponibilità di Roberto Palone, che veramente ci sta vicino e che ci ha dato il teatro e tutti voglio proprio ringraziare di cuore.